Gentili, signore e signori, buonasera. Allo stadio Granillo di Reggio Calabria si affrontano la regina di Nede Orlandi e l'Empoli di Gigi Cagni in una partita decisiva ormai per la salvezza. Brienza, servito da Amoruso, dentro ancora Amoruso, ora ti dico, Amoruso, sinistro, alto. Prima panna gol del match, Amoruso all'undicesimo. Attacca ancora Brienza, sinistro, pallone alto, non c'è deviazione. Parte Vannucchi, destro, pallone che passa e finisce fuori, sorveglia tutto Campagnolo. Cozza, prova ad allargare per Amoruso, aria di rigore, sponda per Brienza, si coordina Brienza, i pugni del portiere, Cozza, alto, clamorosa palla gol, fallita da Cozza. Giovinco, gli dà una mano Marchisio, una finta Marchisio, buon tiratore Marchisio, sinistro, Campagnolo, calcio d'angolo, Empoli vicinissimo al gol con Marchisio. Barreto da fuori, gol, Barreto, fantastico, Barreto, 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 che gol, pazzesco, all'incrocio dei pari, 22.50, esplode il granillo. Tosto al cross, dentro, mischia, saudati, l'anticipo del difensore. Marchisio, gran botta, fuori, grande occasione ancora per le Empoli, Marchisio mette fuori. Se ne va, abate, grande azione, avrebbe viva, abate, il destro, Campagnolo, in calcio d'angolo. Vigiani, dentro per Amoruso, 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 sinistra, è finita, 2-0, Amoruso, 101, e la regina in salvo. E' finita, la regina in salvo, batte l'Empoli per 2-0 con i gol di Barreto e Amoruso.